a mercoledì 6 giugno buongiorno Friuli e bentrovati a questa nostra prima diretta di oggi dedicata come sempre alla rassegna stampa, alla lettura degli quotidiani oggi in edicola alle mie spalle vedete già le prime pagine dei quotidiani nazionali tra poco andremo a leggere assieme i titoli di apertura prima però subito la consueta parentesi dedicata al meteo allora iniziamo dando un'occhiata alle temperature che ci sono in questo momento sulla nostra regione partendo anche da un'immagine un'immagine di Udine e di piazza primo maggio ancora deserta in questo momento a Udine ci sono 16 gradi e due decimi 16 gradi e 9 a Gorizia 20 gradi e 7 decimi a Trieste sulla costa e poi ancora 16 gradi e un decimo a Pordenone salendo in montagna vediamo 11 gradi e due decimi a Tarvisio 10 gradi e 8 sul Lussari 15 gradi e 4 a Tolmezzo 11 gradi e 8 sul monte Zoncolan la giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso su pianura e costa sulla zona montana variabile al pomeriggio con probabili rovesce temporali sparsi temperature massime di 28-31 gradi oggi in pianura dal meteo alla viabilità un flash per vedere com'è la situazione in questo momento sulle principali autostrade della nostra regione ecco la pagina infotraffico di Autovie Venete che al momento non ci segnala code, rallentamenti o incidenti vediamo solo i lavori per la realizzazione della terza corsia e poi anche lavori nel tratto tra Monfalcone Est e Duino anche quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile sulla A4 nel tratto Villesse-Palmanova poi lo vedremo sui quotidiani di oggi ma iniziamo la nostra rassegna stampa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali in primo piano c'è il nuovo governo che ha ottenuto la fiducia in Parlamento ecco il titolo del Corriere della Sera fiducia a Conte siamo populisti al Senato il Premier ha fatto un intervento di 75 minuti e ha parlato di misure rivoluzionarie e pace fiscale Renzi dice siete voi il potere niente sconti il Premier apre a Mosca rivedere le sanzioni tagli alle pensioni d'oro d'aspo per i corrotti questi alcuni dei passaggi del discorso di Conte al Senato e vediamo le prime righe dell'articolo di Gian Antonio Stella che scrive il governo giallo-verde ha ottenuto ieri la fiducia del Senato il Premier Giuseppe Conte è chiamato a dimostrare un equilibrio non meno temerario di un trapezista elegantissimo con un capello fuori posto non un capello fuori posto assicura di essere mosso da null'altro che da spirito di servizio a centro pagina lo sport con un'impresa portata a termine da Cecchinato a Parigi al Roland Garou ha battuto Djokovic ora è in semifinale non accadeva dal 78 impresa di Cecchinato a Parigi il sogno azzurro dopo 40 anni non succedeva da 40 anni un italiano in semifinale a Roland Garou l'ultimo fu Corrado Barazzutti Marco Cecchinato ha compiuto l'impresa battendo il fuori classe serbo Nol Djokovic in 4-7 ora tra lui e la finale di Parigi c'è l'austriaco Dominic TM chiudiamo il Corriere della Sera e proseguiamo con i titoli di apertura andiamo su Repubblica Conte la Russia paese amico e sui migranti sarà linea dura il Premier ottiene la fiducia al Senato con 171 voti 25 astenuti e 117 no e vediamo poi Liliana Segre che sfida Salvini e dice mai leggi speciali sui Rom ancora andiamo a vedere anche la prima pagina del manifesto Sorvegliato Speciale titola il manifesto e mette la foto del Premier con Salvini e Di Maio a fianco a larga maggioranza con 117 voti a favore 117 contrari 25 astenuti il governo Di Maio Salvini scrive il manifesto tiene la fiducia del Senato il Presidente del Consiglio Conte in un lungo discorso fa lo slalom tra i temi dell'accordo di programma l'applauso alla senatrice Segre dal manifesto andiamo sulla prima pagina della stampa Conte si presenta siamo populisti ma non razzisti e apre alla Russia il governo tiene la fiducia al Senato il centro il centro destra si frantuma Savona chiede le deleghe Renzi c'è un caso 30 e la Segre gela i leghisti ebrea sopravvissuta all'olocausto fa un parallelismo tra la Shoah e i migranti mi opporrò con tutte le forze a leggi speciali contro le popolazioni nomadi ha detto la senatrice e vediamo poi anche sulla stampa la foto di Cecchinato che in lacrime dice non credo un match perfetto quello contro Djokovic che lo ha portato in semifinale alla Roland Garros e poi vediamo sempre sulla prima pagina della stampa un reportage nella Slovenia Profughi Zero dove è nato il patto dei sovranisti Ancora continuiamo la nostra carrellata sulle prime pagine andiamo a vedere adesso la prima pagina del fatto quotidiano che titola Poliziotto buono e poliziotto cattivo fiducia a Conte e porti chiusi ecco la foto messa dal fatto quotidiano in prima pagina il Premier tiene i discorsi equilibrati in Parlamento lotta alla povertà all'evasione alla corruzione ai conflitti di interesse poi Salvini copia Minniti niente approdi ai migranti ed ecco ancora la prima pagina del fatto quotidiano andiamo adesso anche su Libero il titolo svolta epocale Italia Austria e Ungheria si battono insieme contro l'immigrazione Salvini Orban il ministro di Vienna rivoluzione sui clandestini la corte europea coccola i gay se il profugo è uomo devi tenerlo ecco ancora il titolo di Libero vediamo anche la prima pagina del giornale il governo è grillino Salvini salvaci tu titolo al giornale passa la fiducia con centosettantunzi Berlusconi vota contro contro ancora andiamo a vedere anche la prima pagina della verità che titola così oggi in apertura cosa cambia col governo del cambiamento la prima volta a Palazzo Madama Conte si intesta l'etichetta di populista rivadisce tutti i punti del contratto si ha flat tax reddito di cittadinanza lotta al business dell'immigrazione apertura alla Russia e cautela sull'Europa restano dubbi sulle coperture ma i pentaleghisti vanno avanti ancora andiamo anche sulla prima pagina del sole 24 ore e vediamo in apertura al senato la prima fiducia a Conte sull'euro lo spread non perdona scrive il sole 24 ore con lo spread da 2 e 40 pensioni quota 100 taglierà l'assegno ecco ancora il passaggio del discorso di Conte sulle pensioni chiudiamo adesso anche questo quotidiano e andiamo a spostare la nostra attenzione sui quotidiani locali su Messaggero Veneto Piccolo e Gazzettino ecco la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine il titolo di apertura le industrie non troviamo tecnici le aziende si rivolgono alle scuole friulane per colmare i vuoti questo è l'articolo poi ripreso nelle pagine interne questo è il titolo scusate poi ripreso nelle pagine interne scuola e lavoro mondi lontani le aziende dettano le necessità Confindustria ha avviato un'iniziativa per incrociare domanda e offerta di impiego le imprese non trovano ingegneri superperiti una lacuna che va colmata detto la presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli l'associazione invia un questionario agli iscritti e una volta raccolte le esigenze indicherà le soluzioni da mettere in atto chiudiamo anche questa pagina torniamo sulla prima e andiamo a vedere che anche sui quotidiani locali c'è la ripresa della notizia del giorno con la fiducia del senato al premier Conte stop al business migranti il premier difende il populismo apre alla Russia e ottiene la fiducia al senato e ancora sempre sulla prima pagina del messaggero veneto a centro pagina fuoco ai profughi sei mesi senza social questa la pena che è stata inflitta a un a un uomo che nei giorni scorsi aveva postato su facebook proprio questa frase fuoco ai profughi un consiglio a tutti i leoni di tastiera scrive Andrea Maggi nel suo articolo sul messaggero veneto di oggi prima di postare un'opinione sui social chiediti per tre volte se faresti meglio a non farlo e se arrivi a chiedertelo per la terza volta allora non postarla affatto questo è il consiglio pratico che solitamente rivolgo ai miei studenti e a proposito di scuola vediamo i numeri dei commissari per la maturità maturità 2018 90% dei commissari sarà regionale il 20 giugno la prima prova e vediamo poi nelle primissime pagine tutto l'articolo con tutti i numeri della maturità 2018 commissari regionali risparmi sulle indennità nominati dal ministero i componenti dei 234 gruppi che valuteranno i candidati sono 8756 gli studenti che quest'anno affronteranno in Friuli Venezia Giulia gli esami appena al 10% dei presidenti di commissione arriverà da fuori scelta che consentirà al ministero un risparmio sulle indennità di trasferta e poi vediamo nella pagina accanto anche un giro di opinioni tra gli studenti che si apprestano a sostenere gli esami di maturità un giro di opinioni sulla scelta della scuola superiore fatta ormai 5 anni fa nel Pordenonese quel che emerge è che non c'è alcun pentimento dai saldatori ai liceali sono tutti fiduciosi gli studenti delle quinte rifarebbero il percorso scolastico tutti sono convinti di poter trovare un'occupazione a Udine siamo soddisfatti dei 5 anni e degli studi scelti i commenti tra i ragazzi che sanno per finire le superiori alcune materie ci sono piaciute una scelta azzeccata c'è chi ha deciso e continuerà all'università e chi invece andrà al lavoro torniamo sulla prima pagina adesso e per quanto riguarda la cronaca vediamo un articolo che ci porta a parlare di nuovo dell'omicidio di Rossella Corazzin c'è il racconto di Izzo che parla di una cerimonia col sangue e il sacrificio di Rossella poi nelle pagine interne abbiamo tutto l'articolo sempre per la cronaca ieri pomeriggio forti temporali si sono abbattuti sul Friuli pioggia grandi nevento numerosi allagamenti alberi abbattuti e anche un incendio a Codroipo dove un fulmine ha incendiato il quadro elettrico di un condominio ecco le pagine interne con le foto dei danni causati dalle forti piogge ma anche dal vento ecco qua strada e piazze allagate la zona più colpita tra Pavia di Udine Pozzuolo e Campo Formido anche alberi caduti a Manzano crollo in una scuola a Manzano poco dopo le 16 hanno ceduto i controsoffitti di quattro aule che erano vuote scrive il messaggero delle classi del tempo normale sono caduti i moduli di rivestimento del soffitto più prossimi alle finestre oggi le lezioni per i bimbi del tempo normale sono sospese per permettere il trasferimento degli arredi danneggiati e sempre a Manzano si era allagato anche il sottopasso di via della stazione e poi vediamo anche gli altri danni a Basiliano Lestizza Pozzuolo Pavia di Udine Campo Formido Santa Maria la Longa e San Giovanni al Natisone ecco qui ancora alcune immagini delle strade allagate e degli alberi caduti torniamo in prima pagina adesso andiamo a vedere ancora qualche titolo dal Friuli sempre per quanto riguarda la cronaca lo ricorderete il caso delle due donne investite nei giorni scorsi da un tir a San Giorgio di Nogaro ieri si sono svolti i funerali e il parroco ha detto troppo traffico paese invivibile queste le parole appunto del parroco durante la cerimonia ecco l'articolo nelle pagine interne il parroco dopo la tragedia dice troppo traffico paesi invivibili Don Schiff al funerale di Barbara del Fabbro chiede soluzioni al prefetto non si può morire per attraversare la strada queste le parole del parroco e le dipendenti la ricordano commosse oggi ci sarà anche un vertice in comune a San Giorgio di Nogaro tra la prefettura e tutte le realtà interessate appunto alla situazione vi daremo tutti gli aggiornamenti nei nostri Tg dicevamo prima della circolazione difficile ieri in autostrada a proposito di traffico vediamo la notizia di questo incidente avvenuto ieri mattina sulla 4 tra Villesse e Palmanova gasolio sull'asfalto autostrada chiusa per ore incidente tra cisterna camion e auto stop alla Villesse e Palmanova lunghi lavori di bonifica i tir invadono la viabilità ordinaria e vediamo appunto la rabbia dei primi cittadini della bassa friulana attraversati dalle strade percorsi alternativi all'autostrada quando questa è chiusa tante parole e pochi fatti dicono i primi cittadini ancora sempre sulla prima pagina del messaggero veneto si parla anche di centri estivi perché è scattata la corsa all'iscrizione ai centri estivi e il messaggero oggi propone un quadro dell'offerta a Udine eccola anche nei centri estivi ci sono le liste d'attesa il comune di Udine ha messo a disposizione mille trecentocinquanta posti i turni di dieci giorni vanno dai centosessantasette euro ai duecentosessantasette per i non eh residenti dal Bearzi alla Mills tra giochi e tornei o solo corsi d'inglese i prezzi dei privati variano dai cinquanta ai centosessantacinque euro a settimana e c'è anche chi propone attività circensi per i più eh piccoli sempre a Udine tiene banco ancora la questione via mercato vecchio dopo lo stop del Tar ai eh lavori e eh l'eliminazione eh dell'utilizzo della pietra eh piasantina eh continuano le analisi della eh situazione eliminare la pietra la piasantina potrebbe costare più di settantamila euro il comune punta a eh mantenere il porfido ma c'è il rischio ricorso la dita che si è giudicata all'appalto infatti attende eh novità sostituire la pietra piasantina con il porfido nel progetto di pedonalizzazione di via mercato vecchio non sarà un'operazione semplice nonostante lo stop del tar infatti per il comune c'è il rischio di trovarsi coinvolto in un'altra battaglia legale il bando per il vecchio progetto era stato assegnato alla edil costruzioni grupp di teramo che però non ha ancora firmato il contratto se per qualsiasi motivo il lavoro dovesse saltare quindi l'azienda non potrebbe chiedere il pagamento di una penale ma un risarcimento in virtù di una legittima aspettativa che solitamente dà diritto a ricevere il 10 per cento dell'importo complessivo il che significa che l'annullamento della gara potrebbe costare più di 70 mila euro alle casse di palazzo da ronco e il comune quindi sta cercando di capire come muoversi stiamo studiando la sentenza del tar poi decideremo come procedere queste le parole del del comune ancora qualche articolo sempre sulla prima pagina del messaggero veneto andiamo nel taglio basso e ci spostiamo nelle pagine dedicate alla cultura dove troviamo un articolo sui 70 anni del piccolo teatro di Udine il piccolo teatro compie 70 anni 70 anni di storia scrive Fabiana della Valle 70 anni di appassionato lavoro per la rinascita culturale della città 70 anni di teatro danza e musica nel capoluogo friulano e poi nelle pagine interne tutto l'articolo che ci racconta anche le iniziative in programma proprio per celebrare questo compleanno sempre nelle pagine degli spettacoli un'intervista di Mario Brandolina a Luigi Locascio ci sarà anche lui alla notte dei lettori venerdì Locascio dialogherà con Rita Maffei se una notte in teatro un lettore così parafrasando il titolo di uno dei più bei libri di Italo Calvino è stata intitolata la lunga maratona notturna della notte dei lettori andiamo adesso sulle pagine del messaggero Veneto di Pordenone lasciamo la prima pagina e andiamo subito sul fascicolo interno e vediamo la notizia che apre proprio questo fascicolo ci porta a parlare di sanità mancano medici e infermieri ortopedia ridotti interventi e posti letto uscite volontarie malattie e gravidanze hanno anticipato i problemi legati alle ferie preoccupazione dei sindacati non è la consueta riduzione dell'attività del periodo estivo ma è una riduzione dovuta alla mancanza del personale medico e infermieristico accade al reparto di ortopedia dell'ospedale di Pordenone dove dalla settimana scorsa sono stati tagliati posti letto e ridotta l'attività con rinvio di alcuni interventi programmati la decisione dell'azienda per l'assistenza sanitaria 5 è stata presa alla luce di un problema di personale non solo medici ma anche infermieri per uscite volontarie malattie e gravidanze come conseguenza sono stati tagliati sette posti letto con una riduzione dell'attività con rinvio di interventi programmati sono invece garantite le urgenze e c'è preoccupazione dicono i rappresentanti sindacali della CGL Sanità perché se la riduzione fosse dovuta solo per la fase estiva potrebbe essere legittima ma se dovuta ad altri aspetti organizzativi e di personale preoccupa molto ecco qua ancora tutta la pagina dedicata alla sanità in cui si parla anche di altri addi eccellenti all'ospedale di Pordenone da Bassi a Cassin tanti gli addi eccellenti terapia intensiva emodinamica in attesa di rinforzi un solo candidato per medicina interna chiudiamo il messaggero veneto adesso e andiamo sulle pagine del gazzettino andiamo a vedere i titoli di apertura del fascicolo locale ecco qua il titolo in regione ritorna il crocifisso l'iniziativa è dell'assessore leghista Barbara Lazzilli che dice ora lo farò mettere anche nelle sedi dei miei colleghi se non si opporranno nel 2019 il simbolo della cristianità venne affisso nell'aula del consiglio su mozione del PDL ma fu no alla foto di Napolitano questo è il titolo di apertura del gazzettino vediamo anche le altre notizie a centropagina la foto della cisterna ribaltata ieri mattina sulla A4 cisterna si ribalta caos in autostrada ci sono volute più di sei ore per bonificare l'area interessata dal ribaltamento di un camion cisterna tra Gorizia e lo snodo di Palmanova in direzione Venezia a causa del massiccio sversamento di gasolio coinvolti nel sinistro anche un tir e un auto poi ieri pomeriggio sempre nello stesso tratto tra Villessa e Palmanova c'è stato anche un altro incidente un altro tamponamento che ha portato a un'altra chiusura temporanea dell'autostrada cambiamo argomento a Udine nuovo Palasport spunta il Magnate un imprenditore manifesta interesse per creare un impianto da 6.000 posti per ora è un'ipotesi alla quale stiamo lavorando di più non posso dire per non farla fumare queste le parole dell'assessore alla pianificazione urbana Paolo Pizzocaro che non smentisce le voci che vorrebbero un imprenditore interessato alla realizzazione di un nuovo Palasport da 6.000 posti in città dove le voci dicono a Udine Sud e aggiungono che oltre al Palasport potrebbero venire realizzati una piscina coperta e parcheggi così da permettere di ospitare grandi eventi Udine città e disabili premio nazionale per il Marinoni si sono meritati una segnalazione gli studenti del Marinoni che al concorso nazionale hanno presentato un progetto a misura di disabili per l'area Bertoli andiamo nel taglio alto adesso e vediamo anche sul gazzettino le parole della Presidente di Confindustria in questo caso non sulle necessità di tecnici da parte delle imprese friulale ma sulle esportazioni nel settore metalmeccanica le esportazioni prendono il volo la metalmeccanica cresce ancora e per la cronaca la festa dell'arma 13 riconoscimenti alle sentinelle della comunità la festa dell'arma dei carabinieri per la sanità farmaci spese da capogiro per la regione 204 milioni in virtù del sistema sanitario autonomo e di uno statuto speciale il friuli Venezia Giulia non accede ai rimborsi previsti dal Ministero della Salute Per quanto riguarda la cronaca vediamo un regolamento di conti tra profughi pakistani che ha richiesto l'intervento dei carabinieri e poi di spalla ancora qualche episodio di cronaca con i carabinieri di Tarvisio che nelle ultime ore hanno denunciato un cittadino polacco di 47 anni per porto abusivo di arma e poi un 45enne pordenonese scoperto al confine con il kit necessario per confezionare uno spinello nel taglio basso la musica dopo Vasco a Lignano arriva Cremonini il 15 giugno per lo sport invece sul gazzettino troviamo un'intervista all'ex Domizzi che lancia alcune frecciate all'Udinese dal gazzettino andiamo adesso sulle pagine del piccolo e vediamo il titolo avevamo visto sul gazzettino che l'assessore Ezzilli chiede di mettere il croce fisso nelle scuole sul piccolo la chiesa contro Fedriga sulla questione migranti Curie e Caritas del Friuli Venezia Giulia insorgono sul piano CIE sono persone non numeri ed ecco l'articolo nelle primissime pagine la linea Fedriga indigna la chiesa diritti calpestati sgomento e allarme nelle diocesi per il ritorno dei CIE la curia triestina dice chi legifera non ci faccia vergognare ecco il titolo del piccolo di oggi queste le parole appunto della curia di Trieste Forza Italia intanto si smarca dal leader il PD porta il caso in Parlamento il capogruppo degli azzurri in consiglio regionale Zanine dice c'è differenza fra profughi e clandestini i CIE devono ospitare i secondi Seracchiani presenta un'interrogazione al ministro Salvini e va all'attacco dei sindaci di centrodestra la Seracchiana ha parlato di un quadro che prospetta un regime di reclusione e poi vediamo anche Moretti del PD che al sindaco di Gorizia Ziberna dice passi dalle parole ai fatti e chieda un centro a Gorizia e poi vediamo anche le parole di Giao che dice l'accoglienza diffusa ci ha evitato problemi di sicurezza andiamo anche sulla prima pagina di Trieste del piccolo sulla prima pagina di Trieste cronaca anche qui si parla di scuola come avevamo visto prima anche sul Messaggero ma si si fa un po' i conti sulle scelte degli studenti per le scuole superiori latino e greco tornano di moda i classici fanno il pieno di iscritti aumento record al Dante Carducci più 30% sezioni raddoppiate la preside dice merito anche dei corsi attivati in cinese i licei battono tecnici e professionali bene nautico e galvani cresciuti del 20% questo in provincia di Trieste andiamo anche sul piccolo di Gorizia e Monfalcone andiamo a vedere anche qui le notizie in primo piano vediamo a Gorizia i danni del maltempo un'ora di pioggia torrenziale e il traffico cittadino va in tilt strade e sottopassi allagati le maggiori criticità nelle vie Aquileia lungo Isonso e Lucinico sulla strada regionale 56 i giardini pubblici diventano un lago tanti rami spezzati ecco anche qui alcune immagini della pioggia e degli allagamenti ai giardini pubblici di Gorizia sulla prima pagina di Monfalcone invece in primo piano ancora i residuati bellici che bloccano il cantiere un altro cantiere nella zona Schiavetti Brancolo avevamo letto nei giorni scorsi dei lavori stoppati anche per quanto riguarda i lavori in mare i lavori di dragaggio del del litorale i residuati bellici bloccano in questo caso anche i lavori per la realizzazione della nuova sede della protezione civile dal sottosuolo spuntano degli ordigni ed ecco qua il tutto l'articolo e anche una foto del cantiere chiudiamo anche questa pagina del piccolo e chiudiamo anche questa prima parte del nostro Buongiorno Friuli perché adesso come sempre è il momento della pubblicità allora linea alla regia noi ci rivediamo tra qualche minuto per proseguire la nostra rassegna stampa con i quotidiani sportivi tra poco grazie a tutti